Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale, io sono Giorret e oggi parliamo di Life non è la d'Urso. Dopo Vittorio Feltri è toccato a Vittorio Sgarbi discutere con Vladimir Luxuria nello studio di Life non è la d'Urso, un dialogo scivolato ben presto nella lite furiponda. Tutto nasce da una dichiarazione di qualche tempo fa in cui il critico d'arte associò l'ex parlamentare alla prostituzione. In studio Sgarbi non smentisce, ammentendo di aver letto in un'intervista della stessa Luxuria rilasciata al Corriere della Sera. Lei però nega parlando di un incontro avvenuto con il critico d'arte negli anni 90, tra l'altro in strada e che lui avrebbe travisato. Sgarbi però ribatte, questa dichiarazione è stata fatta negli anni 80 e non negli anni 90 come dice Vladimir. Infine aggiunge che una sera esce e vede lei nell'evidente posizione di chi batte. Luxuria nega di nuovo e a quel punto Sgarbi inizia ad irritarsi. Non battevi? Non l'hai mai fatto? Gli chiede. I toni si alzano, Luxuria non ci sta e si alza in piedi e sbotta. Esordendo, una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per una prostituta. Sgarbi non cede. Non scambiata? Tu eri una prostituta, l'hai dichiarato tu, non negare la realtà. Alittle Mai è degenerata. Vladimir continua, quale diritto hai di parlare della mia vita? Ma come ti permeti? Provocando la definitiva reazione di Sgarbi. Ironizzando, ti vergogni del passato, di quello che sei stata, non eri un uomo, vabbè sei una donna, non hai... sei una santa. Dai, ho visto un'altra, non eri tu. Sempre ironizzando. Secondo voi, chi dice la verità? Scrivete nei commenti e ditemi di cosa ne pensate. Per il momento concluso, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Red.